ok ecco l'animazione che abbiamo fatto prima come è stata riportata in Sketchfab quindi vediamo che possiamo portare queste animazioni esattamente qui abbiamo questa animazione che abbiamo questa sfera che fa effettivamente quello che noi ci aspettavamo la sfera qui in Blender l'abbiamo vista prima qui ho solo aggiunto uno sfondo e i riflessi giusto per vederla bene ma il meccanismo con cui esportiamo questa cosa è export e poi esportiamo o in GLTF o in FMX e qui ci sono un po' di cosette ho provato poco fa a esportarlo in GLTF e mentre un cubo me l'ha esportato in Sketchfab in maniera corretta non sono riuscito a scaricare il movimento della sfera in maniera corretta quindi una volta portato su Sketchfab non riuscivo a percepire il movimento orizzontale quindi c'è qualche bacchetto nell'export di Blender oppure nell'import di Sketchfab ma in ogni caso se noi proviamo quello che funziona in questo caso l'FBX l'export FBX abbiamo sfera FBX animazione 2 qui ricordiamoci soltanto che quando esportiamo dirgli che cosa vogliamo esportare quindi ho tutti gli oggetti della scena oppure soltanto gli oggetti selezionati poi l'animazione ci accertiamo che ci siano tutte le action insomma tutto sia a posto in pratica quello che se vogliamo esportare sia il piano che la sfera facciamo Shift e selezioniamo tutte e due magari mettiamo la sfera all'inizio così siamo sicuri e a questo punto facciamo per l'appunto l'export FBX accertiamoci per esempio Selected Objects e poi Animation più o meno tutto selezionato facciamo Sfera FBX animazione 2 Export FBX quindi se noi a questo punto andiamo in Sketchfab e proviamo a ritentare allora qui facciamo un Save Settings di questo e poi facciamo un Exit e facciamo l'upload di un nuovo file e il nuovo file facciamo questo animazione 2 animazione 2 animazione 2 non era GLB ma era un FBX che è questo quindi Sfera FBX animazione facciamo Apri e proviamo a vedere se c'è andata bene abbiamo visto che potrebbe non importarla correttamente ma dobbiamo quindi sempre fare un po' in maniera artigianale verificare che Sketchfab ce la prenda correttamente questo ci impiega sempre un attimo a fare questo upload diciamo che normalmente in pochi secondi dovrebbe arrivare e vedete che ci ha preso la nostra animazione come l'avevamo concepita in questo caso non è proprio il massimo dell'animazione bisogna farla meglio ma ce l'abbiamo corretta se vogliamo riottenere un effetto simile a quello che abbiamo visto all'inizio del video basta andare in 3D settings e qui possiamo impostare il background quindi il background gli mettiamo ecco possiamo ok vedete che gli abbiamo messo già un background suo che ci ha selezionato e poi possiamo anche scegliere se vogliamo essere in matcap oppure in classic insomma le cose che vogliamo simulare quindi va benissimo anche così comunque ai fini dell'export in Sketchfab direi che questo video vi ha fatto vedere come si fa e non l'avete visto perché ho cancellato il video ma comunque avevo prima tentato di esportarlo in GLBF quindi ho fatto un export GLTF ma possiamo anche vederlo giusto per per essere per vedere cosa succedeva quindi facciamo ancora selected objects animation animation direi che così potrebbe andare animazione sfera ultima così vi faccio vedere cosa succedeva in alcuni casi export GLTF andiamo di nuovo qua e facciamo un exit e tentiamo di fare l'upload GLTF l'upload GLTF questa ultima continuo continuo a questo punto dovremmo rivedere la situazione non corretta che avevo osservato qualche minuto fa quindi un po' di pazienza ancora un po' di pazienza da questo momento in poi ci impiega un 5-6 secondi ok e qui abbiamo ecco vedete quello che è successo quindi in realtà lui ha fatto una cosa molto carina nel senso che si è presa i materiali però purtroppo non si è presa gli scostamenti orizzontali quindi se per caso anche voi vedeste osservazioni del genere cioè delle nomorie del genere provate altri sistemi di export che su Sketchfab che funzionano meglio e questo è tutto per questo secondo video grazie a tutti